Notaresco per non spegnere le speranze e promozione diretta, Montegiorgio per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. I marchigiani tornano in Abruzzo dopo la sconfitta col Giulianova. Notaresco pronto a vendicare le due sconfitte nei derby con Pineto e Vastese. Epivani con Valescente dopo i fattacci di Vasto fa accomodare in panca Falasca. Notaresco che parte subito forte e all'ottavo sfiora il vantaggio. Spizzata di Speranza per Dos Santos, Zizzania risponde e poi Mancini spreca da zero metri. Esattamente un quarto d'ora dopo risponde pericolosamente il Montegiorgio. Pampano si libera davanti l'area rosso-blu e scaglia un destro che scheggia la traversa. Alla mezz'ora Speranza alza bandiera bianca per un problema muscolare. Al suo posto Montuori. 36, ci prova ancora il Montegiorgio, ancora dalla distanza. Misin prende la mira e calcia. Shiba accompagna in tuffo la sfera che si spegne sul fondo. E' l'ultima emozione del primo tempo. In apertura di ripresa il Montegiorgio però ci prova ancora. E testa subito i riflessi di Shiba col solito Pampano dalla distanza. Due minuti dopo l'occasione più nitida è per gli ospiti. Slalom di Pampano e pallone sul secondo palo. Lupoli perde di pochissimo la coincidenza col gol. Falasca sente puzza di bruciato e cambia atteggiamento. Out Marchionni, dentro Olcese, poi Palumbo per Mancini. Ma il calcio è strano e bello nel contempo. Infatti nel miglior momento degli ospiti ecco la zampata di Montuori che anticipa tutti e fa esultare il Savini. E' il ventunesimo. Si arriva alla mezz'ora e si accende Dos Santos. Pallone recuperato sulla tre quarti e Mancino chirurgico che va a morire all'angolino. Due a zero e sospiro di sollievo per la tribuna del Savini dopo un inizio di ripresa difficile e complicato. Ma il Montegiorgio non molla e al quarantasettesimo riapre la gara. Crossa al centro con la difesa che si perde il neoentrato Santoro. Solo Soletto il sedici butta la sfera in rete. Ma per recuperare non c'è più tempo e il notaresco può gioire.